I primi vaccini arriveranno a Palermo il giorno di Natale e saranno somministrati domenica 27. L'ospedale civico è stato scelto per il V-Day anti-Covid in Europa. I primi ad essere vaccinati saranno 5 medici. L'avvio della campagna di massa è invece prevista dopo Capodanno con 129.000 dosi della Pfizer. Sono poco meno di 20.000 intanto le preadesioni raccolte sul sito Sicilia Coronavirus su 140.000 soggetti individuati fra operatori sanitari di strutture pubbliche e private, medici di famiglia, specializzandi e studenti di medicina generale, anziani e operatori delle residenze sanitarie assistite. A loro è destinata la prima tranche di vaccinazioni che vedrà impegnati 345 operatori e 36 strutture ospedaliere individuate dalla Regione come centri di somministrazione. Le prime 129.000 dosi dovranno essere somministrate nell'arco di due settimane. Dopo 19 giorni dalla prima sarà la volta della seconda. Fra i centri individuati in questa prima fase c'è l'ospedale civico di Palermo che conta su tre frigoriferi a meno 80 gradi per la conservazione ottimale del farmaco. L'azienda produttrice ha distribuito un manuale di istruzioni per guidare gli operatori nei sette passaggi tecnici necessari prima della somministrazione.